È stato considerato un santo, ma anche un alcolizzato, un ubriacone, un donnaiolo. Era un uomo di bell'aspetto e affascinante. Beh, non sono sicura che avrei potuto resistergli se mi avesse fatto delle avance. Ma lui ci ha salvato. Prima di tutto è stato il nostro salvatore. Era un viveur, un contrabbandiere e un giocatore d'azzardo, un bevitore e un donnaiolo. Per i tedeschi era un fidato agente dei servizi segreti militari. Il suo nome era Oskar Schindler, l'uomo che durante il nazismo salvò migliaia di ebrei. Sotto Adolf Hitler diventò un uomo di successo, accumulando una grande ricchezza. Fu una spia al servizio dell'esercito tedesco in Cecoslovacchia e in Polonia. La sua fabbrica di munizioni contribuì allo sforzo bellico dei nazisti. Ma Oskar Schindler, costruendo un suo personale campo di lavoro e correndo molti rischi, è stato l'unico tedesco nella storia della guerra a salvare più di mille ebrei dai campi di esterminio. Questa è la vera storia di un uomo enigmatico, Oskar Schindler. Primo settembre 1939, Adolf Hitler annuncia a uno sannante Reichstagio tedesco che la Germania sta per invadere la Polonia. La notte precedente, mediante un falso incidente, una stazione radio tedesca nella Slesia era stata attaccata dai soldati polacchi. In realtà gli assalitori erano soldati tedeschi vestiti con le divise dell'esercito polacco fornite da un agente dell'intelligence militare, Oskar Schindler. Una settimana dopo i tedeschi trionfanti sfilano nella città polacca di Cracovia e la dichiarano capitale dei loro territori orientali conquistati. Cracovia, dove vive una delle più antiche comunità ebraiche d'Europa, presto sente l'impatto dei nuovi governanti. Le sinagoghe, dove la gente prega fin dal XIV secolo, vengono chiuse, tranne che per girare filmati propagandistici. Vengono emanate una serie di leggi che colpiscono l'intera popolazione, ma con regole particolarmente severe per gli ebrei. Ogni aspetto della vita deve essere controllato. Gli ebrei vengono espulsi dalle loro case, rabunati e ammassati senza più diritti. Una punizione immediata e arbitraria. Ricordo che ero molto infelice le prime settimane. Arrivarono le festività ebraiche e ricordo come fosse oggi che mi trovavo con mia madre in una piccola sinagoga e piangevo. Intorno a noi c'erano degli stranieri. Pian piano ci ridussero a niente. È così. Come è accaduto? In modo sistematico. Ricorrevano ad ogni sorta di stratagemma. Una delle cose che utilizzavano era la cosiddetta action. Di tanto in tanto riducevano il numero delle persone che viveva nel ghetto, dicendo semplicemente chi doveva restare e chi doveva andarsene. I tedeschi portarono mio padre e mia madre, mia sorella minore e mio fratello minore in una zona del centro della città. Chiesero agli uomini di andare da una parte e alle donne e ai bambini di andare dall'altra. La gente sapeva che gli uomini sarebbero andati nei campi a lavorare. Mio padre aveva deciso che non avrebbe lasciato mia madre, mio fratello e mia sorella. Lui andò dall'altra parte. Mia madre teneva per mano mio fratello e mio padre teneva per mano mia sorella. Gli spararono sul posto. So come è andata perché qualche giorno dopo alcune persone che conoscevano i miei genitori giunsero nel campo e mi raccontarono tutto. Piangevano. Sentivano di averli abbandonati. Per loro mio padre era l'uomo che aveva osato a ribellarsi. Era un eroe. Era una follia quello che accadeva. Noi, gli innocenti, ci sentivamo colpevoli di ciò che ci facevano quei criminali. Secondo i piani tedeschi, un giorno a Cracovia, in Polonia e nell'intera Europa non ci saranno più ebrei. Fino a quel momento possono essere sfruttati nei lavori forzati. Gli ebrei senza permesso di lavoro vengono rastrellati. Il lavoro alla fine è un'opportunità per sopravvivere. Camminavo lungo una strada e all'improvviso fui fermato da alcune SS che saltarono fuori da una camionetta e iniziarono a radunare le persone. Prima ancora di rendercene conto eravamo diretti da qualche parte. Non sapevamo esattamente dove ci stessero portando. Alla fine ci ritrovammo in quella che più tardi scoprimmo essere una fabbrica. A un certo punto comparve Schindler. Le guardie SS ci avevano messo in fila affinché lui facesse un'ispezione. Ci guardò e... mi selezionò dal gruppo e disse alle guardie che non voleva nessun altro bambino. Lo disse in tedesco. Ich brauche keine Kinderheer. Le guardie SS gli risposero prontamente quando ti portiamo dalle persone devi tenertele. Poi si allontanarono con lui. Dovette tenerci tutti. Tutti quelli che avevano portato lì. La deutsche E-Mail-Waren-Fabrik di Oscar Schindler Emalia per i suoi operai ebrei è un'attività in fallimento che produce pentolame smaltato acquistata nel dicembre 1939 come copertura del suo lavoro di spionaggio. Nulla del passato del 31enne Schindler lo ha preparato per il ruolo di eroe. Proviene dalla piccola città industriale di Zvittau in Bohemia ai confini con la Cecoslovacchia. Viene cresciuto secondo una rigida educazione cattolica nonostante ci siano ebrei nella sua classe e il suo vicino di casa sia un rabbino con due figli. Il giovane Oscar è un ragazzo estroverso studia poco e ama stare al centro dell'attenzione. Fin da ragazzo sviluppa una passione per le automobili da corsa e le motociclette assecondato dal padre. Nel 1928 sposa Emily una ragazza molto religiosa di un paese limitrofo. Durante gli anni 30 da mediocre venditore diventa una spia nazista. I cecoslovacchi lo arrestano nell'agosto del 1938 ma viene rilasciato dopo che Hitler annette alla Germania il territorio dei Sudeti. Ora, come membro del Partito Nazionalsocialista è di nuovo libero di continuare la sua vita da agente segreto e di playboy. Era un uomo che amava la vita. Un viver. Gli piacevano tutte le donne. Si può lottare contro una ma non contro dieci o cento donne. quindi era meglio far parte del gruppo. Non è così. Tutto ciò non mi dava fastidio. Non si può cambiare un uomo del genere. È inutile litigare con una persona simile. Non ho mai litigato con nessuno. Amava le donne. Amava le feste. Amava, come posso dire, che gli altri lavorassero al posto suo. Gli piaceva vedere gli altri lavorare mentre lui non faceva niente. Diciamo che era molto vanitoso. Ad esempio, gli piaceva mettersi in molto profumo. Quando andava al monopolio che si trovava a Cracovia, mi riferisco all'agenzia governativa per il monopolio dei liquori e dei tabacchi e di tutto il resto. Beh, tutti sapevano che il signor Schindler era lì perché lungo il corridoio c'era la scia del suo profumo. Oscar amava attirare l'attenzione su di sé. Gli piaceva essere ammirato dagli altri. Era impulsivo, ma non in modo negativo o cattivo. Agiva distinto. Ad esempio, una volta andammo a Berlino e su una strada vedemmo una grande concessionaria di auto. guardammo le vetrine. Dentro c'era una bellissima auto azzurra, una Hork. Mi chiese, vuoi che la compri? Io risposi, fallo, comprala. Mi veniva da ridere. Lui non scherzava. Andò dai membri dei servizi segreti, loro gli diedero i soldi e lui comprò l'auto. Nella Polonia occupata, un paese quasi alla fame, gli uomini d'affari tedeschi con auto sportive lunghe 5 metri attirano sicuramente l'attenzione. Vendendo al mercato nero fino al 90% della produzione della sua fabbrica, Schindler riesce ad accumulare una piccola fortuna. Ma anche i suoi acquisti al mercato nero sono considerevoli. Le cose che Schindler comprava al mercato nero erano diamanti, pellicce, bellissimi tappeti persiani e dipinti di artisti famosi. Qualsiasi cosa che avesse un grande valore, perché solo con questi beni poteva corrompere le persone di cui aveva bisogno per i suoi particolari scopi. Gli scopi particolari di Schindler sono tutt'altro che chiari. Tutti i giorni i suoi ebrei viaggiano dal ghetto alla fabbrica. Tutti i giorni affrontano minacce di rastrellamento o cose peggiori. Quando qualcuno dei suoi operai viene arrestato, lui non tiene il rilascio corrompendo le SS. Utilizzando le informazioni acquisite dagli altri funzionari, riesce ad avvisare gli operai di retati imminenti. Poi, alla fine del 1942, i tedeschi decidono di chiudere il ghetto. In questi prati, alla periferia di Cracovia, sul sito del cimitero ebraico, deve essere realizzato un campo di lavoro per gli ebrei al servizio dei tedeschi. L'edificio della camera mortuaria ebraica viene fatto esplodere. I prigionieri ebrei sono costretti a profanare le tombe dei loro antenati per costruire una strada che attraversa il campo di lapidi. Qui venne costruito il campo di lavoro di Kwashov, che ospitò fino a 20.000 ebrei fra uomini, donne e bambini. Il capitano delle SS, Amon Goethe, già requidatore del ghetto di Lublino, viene mandato a Cracovia per dirigere il nuovo campo e supervisionare la distruzione di ciò che resta della Cracovia ebraica. Al comando c'era Amon Goethe, con i suoi uomini delle SS. Donne anziane, bambini, malati, venivano uccisi sul posto e trasportati sui camion aperti nel nostro campo di Kwashov. Io e altri ragazzi dovevamo scaricare i corpi delle persone alle quali avevano sparato. In un solo caso chiedemmo a un tedesco il da farsi, perché c'era un ragazzo che non era ancora morto. Chiedemmo, vuole concedergli una gna de chose? Questa parola significa grazie. perché noi non seppegliamo i vivi. Lui rispose, gettatelo. È uno shade. È un peccato sprecare una pallottola per quello sporco ebreo. Dovevamo gettare della benzina su di loro e poi bruciarli. Le unità mobili cinematografiche tedesche mostrano con orgoglio le squadre Azion al lavoro, ma un tedesco cerca di proteggere i suoi operai dal massacro. La mattina del 13 marzo 1943 Schindler ci disse di non tornare al ghetto come facevamo di solito, ma di restare in fronte in una fabbrica e fare del nostro meglio per dormire ovunque avessimo potuto, perché ci sarebbero stati problemi nel ghetto. Il ghetto sarebbe stato liquidato. C'erano uccisioni in corso e lui voleva proteggerci. Durante quel periodo io rimasi sempre nella fabbrica, restai lì a dormire per tre notti, lavorando di giorno e di notte, mentre il ghetto veniva annientato, così come la mia famiglia, i miei genitori, due sorelle, due fratelli. Uno dei miei fratelli fu ucciso mentre cercava di passare da una fila all'altra. Il destino del resto della famiglia mi è sconosciuto, ma sospetto che furono mandati ad Auschwitz. Non li ho mai più rivisti. Oltre duemila persone muoiono nel ghetto in quei giorni. i sopravvissuti iniziano una vita dietro il filo spinato. Fu davvero spaventoso e molto triste. Credo che fu la prima volta che mi resi conto che eravamo spacciati. In quei giorni molte persone si tolsero la vita. Ricordo che la madre di un dottore prese del veleno nella stessa baracca in cui mi trovavo. Questo fu solo l'inizio. Poi un giorno arrivarono e ci dissero di dare tutto ciò che possedevamo, denaro, gioielli e cose del genere. Dovevamo ammucchiarli in un punto e quella fu la fine. Nella sua villa all'interno del campo di Puashov il comandante Amon Goethe non vuole i piccoli lusti che rendono la vita accettabile ai fedeli servitori del Terzo Reich. L'estate del 43 è molto calda. Goethe ha fatto subito trasferire nella villa la sua amante, Ruth. Questa 24enne tedesca oggi malata di enfisema ha intorno a sé ciò che resta degli ebrei di Cracovia, anziani e giovani. non vedi mai degli anziani e non vedi mai dei bambini. Posso solo dire che ricordo che un pomeriggio vedi arrivare un treno e poi un camion pieno di bambini. Li portavano da qualche parte avevo un'amica la moglie del signor Scherner a cui dissi oh, guarda portano i bambini da qualche parte. mi sentivo giù quella quella scena mi aveva toccato il cuore anche lei aveva due bambini disse oh sono ebrei per soddisfare i suoi interessi musicali Goethe sceglie dei musicisti fra i prigionieri i fratelli Herman e Leo Rosner portai con me un vestito uno smoking e un semplice completo così ogni volta che suonavo dal comandante usavo uno di quei tre mai l'abito da prigioniero e dipendeva dal tipo di festa lui chiamava le guardie e loro dicevano fratelli Rosner venite con noi di solito dopo le uccisioni per ripulirsi la coscienza ci chiamava quasi sempre ma non suonavamo a lungo invece alle feste suonavamo per molto tempo presto l'uomo d'affari Oscar Schindler diventa un assiduo frequentatore delle feste di Goethe ammaglia tutti con il suo fascino Schindler nonostante protegga molti ebrei diventa amico di Amon Goethe l'uomo che ha supervisionato la liquidazione del ghetto uno dei tedeschi più temuti di Cracovia Amon Goethe prelevò 50 ragazzi io ero uno di loro e uscimmo per fare giardinaggio sulla via del ritorno un ragazzo riuscì a fuggire quando rientrammo ai varchi inizierono a contarci videro che eravamo solo 49 non ci fecero entrare e chiamarono Goethe lui venne con qualche guardia delle SS e iniziò a gridare dov'è il cinquantesimo? noi non sapevamo niente davvero era così non potevamo dire che lo avevamo visto fuggire allora prese uno ogni due uomini 25 o 24 uno a destra e uno a sinistra e sparò loro sul posto e disse ecco cosa succede quando qualcuno prova a fuggire tra noi ci facemmo una sorta di promessa eravamo responsabili dei nostri amici come potevamo salvare una vita e mettere a repentaglio 25 o più persone non era un killer spietato no non più degli altri di tutte le altre guardie SS non lo era non lo faceva solo per divertimento non era un assassino credeva a quello che credevano tutti i membri delle SS e degli ebrei e cosa credeva che erano lì solo per lavorare non li uccideva per piacere non era un campo dove le persone non era un campo come Auschwitz ma furono riesumati molti corpi a Puaschov da dove venivano non lo so non lo so lui uccise qualche ebreo naturalmente e e in un campo del genere non era divertente non lo è affatto spesso restava in cucina con le domestiche e diceva loro se potessi fare qualsiasi cosa direi a tutte voi di andare a casa ma non posso fare niente una di quelle domestiche è una giovane prigioniera ebrea Helena Hirsch prima di tutto era un sadico ma in un corpo molto bello non avrei mai creduto che un uomo di così bell'aspetto potesse avere Satana dentro era un assassino assetato di sangue una volta una mattina presto Goet mi fece chiamare naturalmente io accorsi mi mostrò la sua manica aveva una piccola macchia forse era solo un po' di polvere del muro non avevo idea di come si fosse macchiata ma era una macchia insignificante quindi gli dissi ascolti non lo so forse è stato Poldek il domestico che preparava i suoi vestiti è possibile che non l'abbia notata naturalmente per questo ricevetti un bel ceffone sulla faccia e per un momento diventai sorda udì un terribile ronzio nelle orecchie allora gli dissi signor comandante qualcuno suona alla porta allora mi colpì una seconda volta più forte e mi uscì sangue dall'orecchio naturalmente a lui non importava niente e disse vattene sgualdrina criminale iddish lei viveva con un uomo che odiava gli ebrei non li odiava è esagerato gliela pongo in maniera diversa lei ha detto crede che schindler amasse gli ebrei li amava oh no no lui era quello che le ho detto era un adorabile opportunista e gli servivano per questo lavorava con loro ma lui non li aveva a cuore anche per le SS è un adorabile opportunista ma le frequenti visite al campo danno a schindler l'opportunità di incontrare i prigionieri come Helena nella cucina del seminterrato una volta schindler venne in cucina era di buon umore forse aveva bevuto e a un certo punto mi strinse a sé deve capire che in quei giorni se un tedesco abbracciava una donna ebrea era rassinschande una cosa vergognosa ero terrorizzata mi allontanai da lui ma lui disse non aver paura questo abbraccio e anche questo bacio sulla fronte non sono quello che pensi tu è un bacio fraterno e amichevole mi piacerebbe molto aiutarti continuò a venire nel seminterrato una volta uscì nel cortile insieme a me e c'erano persone che lavoravano lì vicino tiravano giù dei macigni farlo era come arare la sabbia non appena si radunavano venivano rimandati indietro per ricominciare Schindler era lì in piedi che mi abbracciava non credo che Goethe fosse nella villa e Schindler mi disse conosci le sofferenze degli ebrei quando lavoravano in Egitto anche qui gli ebrei lavorano duramente ma ricordati che furono salvati in Egitto uscirono dall'Egitto sani e salvi anche voi sarete liberati da quest'inferno quelle furono le sue parole diceva sempre parole di incoraggiamento ebbe la sensazione che Schindler fosse un nazista buono? eravamo tutti nazisti buoni sia per questo non potevamo essere qualcos'altro dovevamo credere in tutte quelle cose cosa avremmo dovuto o potuto fare niente non potevamo fare nulla in quella situazione non potevamo non potevamo non potevamo non potevamo all'inizio del 1943 Oscar Schindler escogita un piano straordinario su uno spazio libero nel giardino posteriore della sua fabbrica costruisce un proprio campo per un migliaio di ebrei qui in baracche di legno ospita i suoi operai e quelli delle fabbriche limitrofe sfruttando la sua amicizia con le SS e con il comandante Goethe gli ebrei vengono trasferiti da Puashov dove vige la violenza alla fabbrica Emalia al riparo dalla brutalità le condizioni nella fabbrica erano completamente diverse da Puashov per la prima volta ci sentimmo al sicuro sapevamo in qualche modo che tutte le cose che ci erano successe come essere frustate e cose di questo tipo non potevano accadere lì e così fu non accadderò mai quando i tedeschi giungevano a Emalia Schindler riusciva a farci arrivare il messaggio ad esempio se qualcuno stava cucinando qualcosa doveva togliere ogni cosa dalla stufa quando veniva Goethe in visita venivano chiuse le porte e le serrande delle baracche in cui vivevano gli operai spiegava loro che quelle erano le baracche della sua fabbrica e che nessun soldato nessun uomo delle SS doveva mai metterci piede la gente mangiava aveva il pane era come essere caduti su un altro pianeta il signor Schindler venne nel garage qualcuno mi disse Oscar Schindler sta arrivando lui mi salutò mi diede anche la mano temevo di dargli la mano di stringergliela ma lui mi disse di non avere paura che aveva sentito dire che ero un buon meccanico e che sarei stato bene non avrei più sofferto la fame allora non appena lui uscì dissi ai miei amici in polacco ditemi è un blef oppure è tutto vero mi dissero che era tutto vero con il mercato nero e il lavoro forzato degli ebrei il mediocre venditore è diventato un uomo d'affari di successo con una sua scuderia la sera giri di bevute e feste con i suoi contatti militari e le SS con fascino e diamanti Schindler compra la salvezza dei suoi ebrei l'accordo consisteva nel fatto che noi effettuavamo i pagamenti con i diamanti non col denaro dovevano esserci sempre piccoli doni di diamanti e di altre cose aha bisognava pagare così poiché il denaro non aveva valore dovevano essere gioielli alta gioielleria pagando Goethe in questo modo le persone potevano restare nella fabbrica mio marito dovete pagare le SS per tutte queste persone ma lo stesso Schindler non è al di sopra dei sospetti viene arrestato tre volte dalle SS e trascorre qualche giorno in cella le accuse vanno da cose di poco conto alla frode nel mercato nero che può portare alla pena di morte ma ogni volta i suoi contatti nei servizi segreti militari e nell'ispettorato degli armamenti fanno sì che venga liberato eravamo protetti da una parte dai servizi segreti e dall'altra dall'ispettorato degli armamenti tedesco e questa cosa ci permetteva di tenere gli ebrei evitando di mandarli ad Auschwitz eravamo aiutati dall'ispettorato degli armamenti tedesco le SS dovevano solo essere pagate affinché non sparassero alla gente per semplice perfidia Schindler l'agente segreto durante una missione in Turchia ha viaggiato fino a lì con la sua auto sportiva e dopo essersi incontrato con l'ambasciatore tedesco von Papen si gode una gita turistica poi nello stesso anno comincia a fare il doppio gioco Budapest capitale dell'Ungheria non è ancora stata toccata dalla guerra e qui le organizzazioni clandestine ebraiche riescono ad operare Schindler parte da Cracovia viaggiando nascosto nel bagagliaio di un furgone pieno di giornali per incontrare un agente ebreo a Budapest Samuel Springman in un hotel Schindler fornisce a Springman i dettagli sul destino del ghetto di Cracovia e consegna come prova le informazioni che ha ricevuto dal comandante Goethe sul rastrellamento degli ebrei poi torna a Cracovia con i fondi per i prigionieri di Puashov alla fine del 1943 sul fronte russo i tedeschi sono costretti a ritirarsi e in occidente gli alleati sono sbarcati in Italia a Cracovia la fabbrica di Schindler festeggia il suo quarto anniversario ora non produce solo pentole smaltate ma munizioni per lo sforzo bellico tedesco con la guerra aperta su ogni fronte la macchina dello sterminio tedesca gira al massimo nel tentativo di attuare la soluzione finale in tutta Europa gli ebrei vengono rastrellati e portati direttamente nelle camere a gas di Auschwitz poi a metà del 1944 con i russi che avanzano verso la Polonia i tedeschi sono costretti a smantellare i loro campi vicino al confine le industrie belliche essenziali devono essere trasferite in territori sicuri gli operai ebrei devono essere eliminati il rifugio creato da Schindler deve essere distrutto nell'agosto del 1944 a Schindler fu ordinato di ridurre di due terzi il numero dei prigionieri del suo campo che consisteva in un migliaio di persone lasciandone un terzo come forza al lavoro le guardie SS lo aiutarono a separare e a trasferire 700 persone che dovevano essere mandate nel campo di Pushov mentre le guardie delle SS marciavano davanti alle persone e facevano la selezione con l'aiuto di Schindler mi ritrovai in quello che credevo il gruppo sbagliato ossia quello che sarebbe stato trasferito invece di quello che restava a Emalia a quel punto corsi dalla mia fila verso Schindler e gli dissi Herr Schindler kein Tischler ist geblieben che significa non c'è nessun falegname rimasto nella fabbrica Oscar Schindler prese molto seriamente questa mia affermazione mi afferrò per il braccio e mi mise nel gruppo delle 300 persone ecco come sono rimasto in quel gruppo ma Schindler perde 700 operai qualche giorno dopo vengono caricati su carri bestiame a Pushov per essere trasferiti nel campo di sterminio di Mauthausen in una giornata di caldo rovente vengono tenuti chiusi nei vagoni e mentre Schindler è in visita da Goethe scopre il loro destino ottiene che vengano nutriti e davanti al comandante chiede che i vagoni vengano bagnati per dare un po' di refrigerio agli ebrei chiusi all'interno corrompe una guardia delle SS affinché durante il viaggio apra i vagoni ad ogni fermata i suoi 300 sopravvissuti hanno ancora una speranza sebbene a settembre Emalia sia stata chiusa e i prigionieri trasferiti a Pushov tuttavia la sua estesa rete di contatti dà dei frutti la produzione ora considerata essenziale allo sforzo bellico deve essere trasferita nella più sicura Brunlitz vicino alla sua città natale può portare con sé mille operai specializzati in quel periodo venne redatta una lista di persone che sarebbero rimaste e di quelle che avrebbero dovuto andarsene l'idea era di tenere unite tutte le donne e le famiglie delle donne sfortunatamente alcuni non riuscirono a farcela sia uomini che donne la lista fu fatta in modo bizzarro e questo perché ognuno aveva i propri interessi sia Schindler che il signor Bankier o il poliziotto ebreo o persino l'ingegnere tedesco che lavorava per Schindler si regolarono delle vendette personali in quel momento e per questo alcune persone che avevano lavorato fin dall'inizio con grande impegno non arrivarono mai a Brunlitz e non sopravvissero questa è la lista di Schindler la lista dei mille fortunati che sarebbero sopravvissuti ma dato che Schindler ha perso 700 operai durante la selezione di agosto adesso c'è spazio per i nuovi arrivati da Puashov tutti vogliono entrare nella lista e la corruzione dilaga il prigioniero responsabile è un uomo di fiducia di Goethe Marcel Goldberg gli chiesi Marcel saresti così gentile da inserirmi nella lista così la prima domanda che mi fece fu hai diamanti hai dollari risposi Marcel non ho diamanti non ho dollari ma siamo buoni amici da tanto tempo da prima della guerra mi disse e non voglio usare parole volgari ma disse tu morirai qui non andrai da nessuna parte senza i diamanti quello che riceveva era per lui stesso non era per qualcun altro era un suo affare personale su quella lista lessi il mio nome e puntire Remoisches la mia data di nascita e vicino c'era anche la qualifica lavoratore di lamiere posso dare la mia parola non l'avevo scritto io non sono mai stato un fabbro come ho già detto andai nel campo per costruire le baracche poi in seguito lavorai in cucina se io fossi un invasato lo fossi stato a quel tempo direi che un angelo era sceso dal cielo e aveva scritto il mio nome Elena Hirsch la domestica di Goethe offre a Schindler 4.000 suoti per far parte della lista lui prende il denaro e riesce a inserirla nella lista in un modo più rocambolesco Schindler rimase con Goethe e iniziarono a giocare a carte non so a cosa ma Schindler disse chiunque vince prende è così che sono finita sulla lista Goethe continuava a non essere d'accordo non voleva mettermi sulla lista allora Schindler disse chi vince mette Elena sulla propria lista naturalmente giocarono e giocarono e Schindler vinse 14.000 suoti era una bella somma Schindler si rivolse a Goethe e gli disse allora e Goethe rispose non rinuncerò a lei e Schindler disse abbiamo giocato sii leale Julius Madrich proprietario di una fabbrica tessile a Puashov vuole mandare alcuni dei suoi operai a Brunlitz con Schindler il quale accetta di prenderne 60 un giorno arrivò Madrich e ci disse che poteva mandare alcune persone a Brunlitz da Schindler se volevamo andare con le nostre famiglie se ne sarebbe occupato lui e così fece fui uno dei più fortunati mia moglie e io finimmo a Brunlitz e cosa accade alla maggior parte degli operai che lavoravano per Madrich ma che non scelsero di andare a Brunlitz andarono in diversi campi so che alcuni finirono a Dachau altri a Mauthausen alcuni sopravvissero altri no ovviamente alla fine 1100 persone fra uomini donne e bambini sulla carta tutti operai specializzati in armamenti vengono inseriti nella lista per Brunlitz il 15 ottobre 1944 800 uomini lasciano Puashov sui carri bestiame ma invece di arrivare alla fabbrica di Schindler nel sud est il giorno seguente vengono scaricati nel campo di concentramento di Grosso Rosen Grosso Rosen fu un vero incubo quando arrivammo per prima cosa aprirono le porte dei carri bestiame quando scendemmo c'erano i capò in piedi e indossavano i guanti e avevano un aspetto elegante e ci riunirono tutti in un luogo di raduno che chiamavano Apple Plots e in quel luogo la prima cosa che ci chiesero fu di spogliarci era ottobre e faceva molto freddo ci spogliamo e poi ci condussero nelle docce eravamo in apprensione al momento di fare la doccia non eravamo sicuri se avremmo ricevuto l'acqua o il gas quando uscì l'acqua fu un grande sollievo ci tennero tutti eravamo diverse centinaia in una stanza che poteva accogliere 30 o 40 persone quello che facemmo fu dormire sul pavimento con le gambe divaricate in pratica ci incastrammo l'uno nell'altro era l'unico modo per entrare tutti nella baracca è così che dormimmo la prima notte ed anche la seconda notte la terza credo che arrivò un angelo Oscar Schindler proprio lui non appena lo vedemmo fu come se le porte del cielo si fossero aperte per noi in quel momento tutti si sentirono al sicuro se Schindler era lì non ci sarebbe accaduto nulla e così un paio di giorni dopo fumo portati a Brunlitz esistono versioni discordanti sulle esatte circostanze che portarono alla liberazione degli uomini e se Schindler fosse presente o no due giorni dopo quando gli uomini raggiungono la sicurezza di Brunlitz anche le 300 donne lasciano Puashov per il nuovo campo dopo 12 ore hanno percorso solo 65 chilometri fino all'ingresso di Auschwitz ricordo che arrivamo ad Auschwitz di notte aprirono i portelloni dei vagoni e dissero tutti fuori uscimmo tutti e camminammo in silenzio notai subito le ciminiere e il fuoco che usciva da lì e non dissi nulla andai verso mia cognata alla sorella di mio marito e le indicai le ciminiere ci portarono sempre più vicino alla zona in cui c'erano le ciminiere in alcune baracche non so esattamente cosa fossero ci dissero di spogliarci di mettere i nostri averi da una parte e di entrare nella stanza per la doccia restammo lì molto a lungo ma non ci fu nessuna doccia dato che restammo lì a lungo le persone che lavoravano lì ebree erano sicure che la mattina seguente ci avrebbero uccisi ci avrebbero portati nelle camere a gas e poi bruciati il cielo era tutto rosso intorno a noi c'era un odore particolare ma non credevamo che accadessero ancora quelle cose ricordo che c'erano delle donne slovacche che si trovavano ad Auschwitz fin dall'inizio dal 1940 all'incirca dicevano non sopravvivrete quando chiedevamo loro se potevamo ottenere qualcosa di nostro e poi non vivrete un altro giorno quindi non eravamo sicure di cosa sarebbe successo dopo ma speravamo che tutto sarebbe andato per il meglio insomma questo è il perennio ottimismo degli ebrei suppongo il giorno seguente quando ci misero fuori arrivò il dottor Mengele per esaminare quella parata di uomini e donne ricordo che le persone lo chiamavano l'angelo della morte ci sottoponemmo alla prima selezione ad Auschwitz lui chiedeva alle donne più giovani di me quanti anni hai nonnina? o alle bambine che erano nel gruppo qual è la tua età? poi naturalmente misero le più anziane da una parte e il resto di noi fu spinto nella parte buona ci portarono a Birkenau che faceva parte di Auschwitz e restammo lì per tre settimane durante quelle tre settimane credo che mi sia dovuta spogliare nuda almeno tre volte per una selezione al tempo ero molto magra e non sapevo quale parte del corpo mostrare per sembrare forte e sana fin dall'inizio capimmo che ad Auschwitz tutto era in funzione della morte non della vita non c'era sapone non c'erano vetri alle finestre l'acqua ovviamente era ghiacciata era novembre e il fango arrivava ai polpacci non indossavamo calze né indumenti intimi nessun tipo di condizione igienica assolutamente nulla niente carta igienica nulla che una donna potesse utilizzare per la sua igiene cominciamo ad essere molto affamate perché il cibo era quasi niente non potevamo nemmeno mangiare quello che ottenevamo perché avevamo tutti la dissenteria alcuni non riuscivano a reggere quella situazione non erano emotivamente forti per sopportarla alcune persone decisero di andare dritte al filo elettrico e suicidarsi anche nel nostro gruppo non so forse ero più giovane e più forte un giorno venne qualcuno a chiedere chi sapesse lavorare a maglia io risposì che sapevo farlo e mi diedero un paio di ferri naturalmente improvvisati mi tagliavano le dita ma riuscivo a fare la maglia mi diedero del filo e io realizzai dei guanti per qualcuno quando c'era un appello anche nel cuore della notte alle due del mattino tutti dovevano uscire per sottoporsi alla conta io non dovevo andare perché ero quella che faceva i guanti quindi ci furono davvero momenti in cui non potevi prevedere ciò che ti avrebbe salvato o aiutato vedevamo le altre donne che stavano peggio di noi perché erano da più tempo ad Auschwitz non dimenticherò mai un fatto che mi è accaduto un giorno non so perché fui mandata con altre due ragazze a portare il cosiddetto cereale una specie di brodaglia simile al porridge ma in realtà era acqua era acqua calda mentre lo portavamo dalla cucina alla nostra baracca apparvero delle delle ombre di donne erano le 4 del mattino con le teste rasate con quegli abiti a brandelli di Auschwitz mettevano le loro scodelle che probabilmente usavano anche per altri scopi nella nostra brodaglia e le riempivano mentre la trasportavamo erano terribilmente affamate non avevano il controllo delle loro azioni né delle loro emozioni di niente ci chiedevamo se saremmo diventate come loro fu terrificante quel sentimento di disperazione che noi non provavamo perché speravamo che Schindler sarebbe venuto a prenderci ma come potevamo esserne certe ad Auschwitz le 300 donne di Schindler aspettano e sperano ma a Cracovia Schindler viene di nuovo arrestato una squadra investigativa delle SS ha arrestato Amon Goet perché sospettato di contrabbando e lui ha coinvolto anche il suo amico Oscar ci vogliono diversi giorni prima che i soliti servizi segreti e l'ispettorato degli armamenti lo facciano liberare di nuovo libero Schindler torna a occuparsi delle donne si accorda con un'amica ciecoslovacca che dovrà viaggiare fino ad Auschwitz lì dovrà incontrarsi con uno degli ufficiali anziani e passare la notte con lui presto le donne ebree di Schindler sono pronte a partire ma ad Auschwitz arrivano nuovi prigionieri qualcosa è andato storto a Brunlitz in assenza di Schindler tutti i ragazzi sono stati radunati insieme ai loro padri e mandati nel campo di sterminio dove le loro madri ora attendono di partire mio figlio mio figlio mi disse papà mi dispiace così tanto che devi morire perché sono un bambino poi un giorno mio figlio notò ad Auschwitz alcuni movimenti sotto i treni vedeva gambe di donne ebbe una strana sensazione e iniziò a fischiare il nostro segnale mia sorella lo udì e guardò attraverso una crepa del vagone del treno era un treno per cavalli e vide mio figlio e suo figlio tutto a un tratto iniziò ad urlare Mansi guarda guarda ci sono i nostri figli c'è Richard c'è Olek c'era anche un altro ragazzino Ginter si chiamava Ginek guardai e vidi mio figlio volevo parlargli volevo gridare qualcosa o fischiargli fargli sapere che eravamo lì iniziò a bussare al portellone allora il tedesco disse cosa è successo lei rispose ascolti ho visto mio figlio e forse è l'ultima volta che lo vedrò la prego mi faccia uscire lui disse va bene vada sotto quel treno e faccia credere che sta facendo qualcosa andai sotto quel treno e lo chiamai Olek 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 fischiai lui mi vide e io vidi lui dissi figliolo hai fame lui rispose no mamina ho delle patate fu davvero una coincidenza incredibile trovarsi nello stesso luogo nello stesso momento ricordo ricordo ancora che stavo con mio cugino e con mio zio i nostri numeri tatuati erano consecutivi ricordo molto bene anche un bambino della mia età che urlava mentre veniva tatuato su quel numero dovettero metterci una croce sopra perché l'uomo che lo aveva fatto aveva commesso un errore per le donne di Schindler il calvario è finito è l'unica partenza di prigionieri da Auschwitz nella storia della guerra quando arrivamo a Brünlitz lo ricordo molto bene era mattina presto faceva freddo era tutto grigio e quando scendemmo dai carri bestiame eravamo sudice e oltretutto eravamo imbrattate di vernice ci avevano contrassegnate prima di lasciare Auschwitz perché in caso qualcuna di noi avesse avuto intenzione di fuggire sarebbe stata avvistata facilmente arrivamo e poi scendemmo dal treno e formammo file da cinque come al solito io ero sempre con le stesse donne e una di loro disse guardate quelle ciminiere siamo venute qui perché devono ucciderci col gas si chiamava Margo allora le dissi potevano farlo ad Auschwitz stiamo andando da Schindler sono sicura che non lo faranno ci fecero marciare lungo i lati del campo i cancelli erano aperti ed entrammo Schindler era lì con il suo piccolo cappello tirolese con la piuma era circondato dagli ufficiali delle SS dalle guardie e dalle guardie donne ci sorrise e poi disse finalmente siete con me non dovete temere nulla anche se la fabbrica non era ancora terminata ossia i nostri dormitori non lo erano dormimmo sulla paglia per terra ma non importava perché eravamo lì con lui e sapevamo che da quel momento in poi qualsiasi cosa fosse successa eravamo al sicuro perché se fosse stato il suo potere lui si lui si sarebbe preso cura di noi schindler fa proprio questo trova cibo al mercato nero e convince i vertici militari che la sua piccola attività è ancora essenziale allo sforzo bellico i filmati di propaganda mostrano fabbriche efficienti come la Krupp o la Farben anche quando la Germania sta perdendo la guerra ma nonostante schindler abbia sul libro paga molte SS per far lavorare gli ebrei non è né la Krupp né la Farben fui assegnato al reparto utensili costruivo utensili non avevo idea di come farli lavoravo sotto un uomo che era un vero esperto e aveva tre assistenti e nessuno di loro sapeva cosa stesse facendo nessuno degli utensili che facevamo per le grandi presse nessuno di quegli utensili ha mai funzionato l'impianto lavorava ogni giorno ma nessun prodotto usciva da lì ci siamo sempre chiesti come poteva succedere come le autorità tedesche glielo permettessero cosa sarebbe successo se qualcuno fosse arrivato e avesse visto che accadeva poi scoprì molto dopo la fine della guerra che Schindler comprava alcuni prodotti sul mercato nero e li consegnava alle autorità tedesche come prodotti realizzati nella sua fabbrica nonostante gli sforzi di Schindler per i tedeschi la situazione si fa difficile di fronte all'avanzata dell'esercito russo continuano ad evacuare i campi di Serminio in Polonia il 29 gennaio 1945 un carro bestiame pieno di prigionieri provenienti dal campo di Golleschau viene lasciato all'ingresso della fabbrica di Schindler dalle guardie delle SS i due soldati dissero abbiamo un carico di prigionieri provenienti dal campo di Golleschau viaggiamo da 14 giorni la fabbrica a cui erano destinati non li prende non possiamo proseguire siamo mezzi congelati se non li prendete apriremo il vagone li uccideremo tutti e li lasceremo qui allora io e l'ingegnere Schönenborn chiamammo mio marito a Cracovia gli parlammo e poi rispondemmo ai tedeschi li prendiamo noi lavorammo per ore con i picconi le pale versando acqua calda il vagone era completamente congelato quando riuscimmo ad aprire il vagone andammo subito a soccorrere quegli uomini sofferenti noi mi scusi per l'espressione ma non riesco a dirlo diversamente quando li sollevammo la pelle del di dietro era congelata e si era lacerata quindi urlavano dal dolore quando capimmo la situazione agimmo lentamente e con attenzione troppa acqua calda li bruciava e troppo poca non li aiutava per la prima volta nella mia vita vedi persone senza capire se fossero uomini o donne non riuscivo a distinguere se erano uomini o donne erano tutti pelle e ossa occhi scavati ed enormi sembravano delle mummie queste erano le persone che arrivarono da Golleschau malate senza cibo stavano morendo di fame erano congelate ecco come arrivarono a Brunlitz i sopravvissuti di Golleschau somigliano a questi prigionieri filmati a Bergen-Belsen nessuno pesa più di 35 chili per i morti Schindler acquista un lotto nel cimitero locale e li fa seppellire secondo il rito ebraico i sopravvissuti vengono nutriti e curati per farli tornare ad un'apparente normalità poco prima della fine della guerra ricordo il compleanno di Schindler credo che qualcuno preparò un dolce festeggiamo il il suo compleanno all'interno della fabbrica e cantammo tanti auguri a te lui fece un piccolo discorso era molto bravo in questo genere di cose poi sottolineò quanto fossimo al sicuro in quell'angolo di mondo in cui non c'era la guerra disse che eravamo protetti e ci fece restare in piedi in silenzio in memoria dei nostri defunti qualcuno potrebbe dirvi che quanto accadde sia stata solo una messa in scena da parte sua un modo come un altro per salvarsi la pelle in futuro non so cosa passasse per la sua mente non saprei cosa dire questo è quanto è accaduto quale fosse la sua vera motivazione io non lo so l'anima L'ultimo giorno di guerra fu un momento che non dimenticherò mai. Schindler sistemò gli altoparlanti nella fabbrica e annunciò che avremmo ascoltato il discorso della vittoria di Churchill. Ma non erano molti quelli che capivano l'inglese. Tuttavia l'atmosfera era elettrizzante. Tutti erano in piedi ad ascoltare con attenzione un discorso di cui non potevano capire le parole, ma sicuramente potevano intuirne il significato. Avevo preso delle lezioni d'inglese prima della guerra e capì qui e là alcuni passaggi del discorso. Fu uno dei momenti più belli, perché capimmo che eravamo salvi, che eravamo a casa e che eravamo sopravvissuti. Non sapevamo che eravamo in pochi ad essere sopravvissuti. I morti e i morti viventi, i sopravvissuti di oltre un decennio di terrore. A mano a mano che vengono liberati i campi di sterminio emerge l'enorme atrocità commessa dai tedeschi in nome del nazionalsocialismo. Mentre coloro che hanno solo obbedito agli ordini vengono arrestati, i prigionieri ebrei di Brunlitz pensano a come consegnare il loro salvatore, Schindler, nelle mani degli americani. Sono convinti che i russi lo ucciderebbero sul posto. Il dottore Ilfstein, che era uno dei personaggi importanti del campo, venne da me e mi chiese di fare un lavoro molto importante. Gli chiese di che si tratta. E lui, se è stato scelto, Richard, per salvare la vita a Oscar Schindler, per portarlo fuori dal campo e consegnarlo agli americani. Lo farai? Gli risposi, sì, certo che lo farò. Glielo dobbiamo a Oscar Schindler. Un minuto dopo la mezzanotte, il 9 maggio 1945, uno strano convoglio si unisce all'esercito tedesco in fuga. Schindler, insieme alla moglie e all'amante, a bordo della Hork, viene seguito da un camion che trasporta un gruppo di scorta formato da giovani ebrei. Hanno il compito di proteggere e fare da garanti per il loro ex datore di lavoro. Viaggiavamo a circa 80-90 km orari. Ma poi, all'improvviso, ci imbattemmo in una lunghissima colonna di Waffen-SS Wehrmacht. Così ci ritrovamo in un ingorgo. Passammo allora per la Bömerwald, la selva boema. Era una strada di montagna e quindi dovetti usare molto i freni. Dopo circa 80 km, i freni si ruppero. Immaginate 30 tonnellate senza freni. Quindi misi due miei amici sui parafanghi, diedi loro due grossi pezzi di legno. E quando non riuscivo più a fermare la macchina con le marce, loro saltavano giù e mettevano i pezzi di legno sotto le ruote perché ero in grande pericolo. Se avessi fatto un incidente con un'auto militare tedesca, probabilmente mi avrebbero sparato in testa. Così proseguimmo per altri 100 km. E poi, con nostro grande stupore, dalla foresta spuntarono cinque russi kosakhi. E non potrò mai dimenticarlo. Un migliaio di tedeschi, un migliaio con armi pesanti, fuggirono come bambini impauriti, gridando, Ivan, Ivan Comte, fuggivano via. La seconda cosa che ricordo è un ufficiale tedesco che disse rivolto a noi, Kameraden, Kameraden, keine Angst, weiter fahren. Ossia, non abbiate paura, Kamerati, andate avanti. e in quel momento diedi la mia giacca a Oscar Schindler e gli dissi «Mi ascolti, non è più il mio direttore, ora è Oscar». Gli diedi anche il mio cappello, perché io ero rasato e lui aveva i capelli. Lei viene da un campo di concentramento, se lo ricordi. La terza cosa che ricordo fu uno dei cosacchi si avvicinò a noi con il coltello e tagliò l'orologio di Schindler, era un orologio d'oro, e lo prese al volo e fuggì. L'industriale tedesco è ora un ebreo proveniente da un campo di concentramento. Insieme a un gruppo di ebrei è ora al sicuro al confine svizzero, dove viene scattata questa foto. Il campo di Auschwitz viene liberato all'inizio del 1945. All'arrivo dei russi fra i sopravvissuti ci sono i ragazzi arrivati lì a novembre dalla fabbrica di Schindler, compreso Richard Horowitz. Avevo circa cinque anni quando fui liberato ad Auschwitz dall'armata russa. ho un ricordo piuttosto vivido di un piccolo plotone di soldati che radunò tutti i bambini rimasti e io probabilmente ero uno dei più piccoli di fronte a una forca, una situazione piuttosto macabra, a dire la verità. Poi camminammo lungo un sentiero stretto tra il filo spinato e lì incontrammo un gruppo di bambini e anziani. Non so cosa facessero lì. in seguito, non sapendo dove fosse la mia famiglia, non c'era nessuno in quel momento, mia madre e mia sorella erano in un altro campo e mio padre era stato portato a Mauthausen, fui portato in un orfanotrofio a Cracovia. Richard ritrova la madre quando lei fa ritorno a Cracovia da Brünnlitz alla fine della guerra. La donna scopre che è ancora vivo quando vede questi filmati. Nell'agosto del 1946 Amon Goethe, mai pentito, viene processato a Cracovia. Il 13 settembre viene condannato all'impiccagione per crimini di guerra. Per quanto riguarda Schindler, dopo la guerra la guerra fa ben poco per se stesso. In Germania ha grandi progetti ma il lavoro non decolla. Poi, nel 1949, riceve del denaro da una fondazione ebraico-americana e decide di emigrare in Argentina con sua moglie e la sua amante e un gruppo di ebrei che aveva salvato. Ma in Argentina i suoi affari non vanno meglio. Oscar a quel punto non era più un uomo che era stato un tempo. perse la sua forza di volontà, si lasciò andare, perse la volontà di lottare, andò alla deriva, non iniziò più nessuna attività. Ecco quello che accadde. Visse sperando che qualcosa sarebbe saltata fuori. Perché mi preoccupo del domani se oggi sono qui? nel 1958, nel 1958, Schindler lascia la moglie e torna in Germania. Avvia una fabbrica di cemento che però presto fallisce. Il 1962 è l'anno della svolta. Si recca in Israele per la prima volta, dove riceve una calorosa accoglienza dai suoi ebrei. ognuno di noi pensava di essere l'unica persona ad essere stata aiutata da lui. All'improvviso venne fuori che ognuno aveva ricevuto un aiuto da Schindler. Ad esempio, c'era un uomo che aveva rotto i propri occhiali ed era disperato perché non vedeva niente. Beh, era stato proprio Schindler a comprargli un paio di occhiali nuovi. Una donna aveva un figlio nascosto in Polonia e lui le portava le portava di tanto in tanto i messaggi del figlio. Un'altra donna si trovava in ospedale perché doveva ricevere delle cure. Lui le chiese se avesse bisogno di qualcosa. Lei voleva solo una mela e lui le la portò. La vita in Israele è piena di impegni mondani per Oscar Schindler dopo anni di solitudine. Le sue visite diventano ogni volta un evento. Non sono sicuro che volesse la gratitudine ma voleva essere circondato dalle persone. Amava le cerimonie, le grandi cerimonie e qui si sentiva a proprio agio. Voleva tutti intorno. Voleva raccontare le sue storie alle persone importanti, ripeterle continuamente. Questo era Schindler. Era fatto così e noi dovevamo accettarlo per quello che era. Penso sia stata una fortuna che fosse così perché nessun altro con un modo di pensare normale sarebbe stato capace di fare ciò che fece lui. Israele onora Schindler nel 1963 è la terza persona a ricevere il titolo di giusto tra le nazioni. Il suo albero si trova nel viale dei giusti ma non tutti i sopravvissuti pensano che abbia fatto del bene senza secondi fini. Dopotutto per me Schindler era ancora un tedesco un nazista non crederò mai che provasse amore per gli ebrei per me lui rappresentava il sistema tedesco nazista e fu un uomo che fece i soldi. Per undici mesi all'anno Schindler vive modestamente in un monolocale a Francoforte di fronte alla stazione. C'è in ballo un contratto cinematografico il denaro viene speso e il film non si realizza. Vive di una piccola pensione e delle donazioni dei sopravvissuti beve molto. Nell'autunno del 1964 viene ripreso dalla televisione tedesca fuori dal suo appartamento e gli viene chiesto perché avesse salvato gli ebrei di Cracovia. Die Verfolgung der jüdischen Menschen im Generalgondomang im polnischen Raum ha in ihren Grausamkeiten una allmähliche Steigerung genommen. Im Jahre 39 und dann 40 mit den Judenstern und die Einschliessung und Zusammenpferdung der Menschen im Ghetto haben natürlich den Sadismus in der Rheinkultur erst im Jahre 41 und 42 geoffenbart und ein denkender Mensch der mit dem inneren Schweinehund siegreich fertig wurde musste einfach helfen es war keine andere möglichkeit. Oskar Schindler muore il 9 ottobre del 1974 in seguito ad un infarto Quando i miei amici mi dissero che Oskar era morto provai molta tristezza perché non era tanto anziano aveva solo 66 anni mi sentii triste come quando morì mio fratello o mio padre qualcuno mi chiese di andare a Francoforte gli risposi ci andrò e ne sono davvero onorato una volta l'ho salvato a Brunlitz e ora sono onorato di riportarlo in Israele per poter celebrare il funerale e di riportarlo a casa perché ci ha sempre detto la mia casa è in Israele Tre settimane dopo nella basilica della dormizione di Maria a Gerusalemme si svolgono i funerali di Oscar Schindler molti ebrei che non erano mai entrati in un luogo di culto cristiano arrivano per onorarlo anche se nessuno può dire che fosse realmente Oscar Schindler il suo contributo all'umanità è vividamente impresso sui volti degli uomini e delle donne seduti fra i banchi della chiesa quel giorno Schindler aveva fatto ai suoi ebrei un regalo inestimabile grazie grazie al grosso impegno di Schindler noi siamo sopravvissuti come famiglia ho ancora i miei genitori sono ottantenni e siamo consapevoli di essere tra i pochi ad essere sopravvissuti come famiglia davvero pochi hanno ancora i genitori e i miei amici sopravvissuti sono invidiosi di noi che mia moglie ed io abbiamo i genitori e che i miei figli abbiano i nonni io sono la persona più giovane che deve la sua vita a Schindler ai suoi stratagemmi guardando la cosa in prospettiva ricordando la vicenda da adulto non c'è dubbio che io mi senta riconoscente nei confronti di quell'uomo non mi importa chi fosse realmente e in che modo abbia agito ciò che conta è la vita l'ultimo giorno di guerra nel 1945 gli ebrei di Brunlitz vogliono dare un regalo a Oscar Schindler mentre egli si prepara a lasciare il campo un prigioniero gli offre i suoi denti d'oro che un altro trasforma in un anello sul quale viene inciso un vecchio detto ebraico preso dal Talmud chi salva una vita salva il mondo intero di Brunlitz di Brunlitz di Brunlitz a Grazie a tutti